amici di atti sport ventiquattro bentornati inizia una nuova settimana per due metri da pallannuto vista da vicino e sono contento di inaugurare le nostre puntate per questi sette giorni con il centro vasca del lance water police sebastian susac ciao sebastian benvenuto grazie di aver accettato il nostro invito ciao andrea grazie mille grazie a te e ovviamente un piacere essere qua e allora iniziamo dall'ultima uscita ufficiale preziosa vittoria esterna per l'anzio water police che conquista il secondo successo consecutivo sbancando la scuderi e regolando undici a sette la nuoto catania con quale indicazione avete archiviato questo successo ma guarda per noi era una partita veramente importante una di quelle che viene segnata sul calendario diciamo che abbiamo un calendario soprattutto difficile ora quindi di conseguenza arrivarci con una vittoria molto molto importante non non ti nascondo che comunque siamo in un momento buono abbiamo fatto due vittorie consecutive e di conseguenza adesso soprattutto nella prossima partita sono molto cariche e penso che ci sono cinque o sei squadre che sono sulla nostra portata di conseguenza provare a vincerle soprattutto fuori casa è importante catania una di queste certo anche perché una volta messi al sicuro i punti necessari alla salvezza poi si può andare a giocare con la testa libera e tentare anche qualche colpaccio diciamo di sì appunto come ti dicevo siamo 6 7 squadre che probabilmente si lotteranno i play out la retrocessione e ovviamente cercare di uscire da queste sei squadre sarebbe molto importante partiamo piano piano e proviamo a vincere queste partite che dobbiamo vincere ovviamente catania uno scontro diretto soprattutto fuori casa penso sia molto molto importante anche per la fiducia della squadra aver vinto assolutamente che cosa vi ha detto mister tofani alla fine del match si è congratulato comunque abbiamo preparato molto bene la partita e sicuramente era veramente contento soddisfatto ora appunto veniamo dal pareggio bologna che probabilmente avremmo dovuto vincere abbiamo sbagliato qualcosa noi quinto vinto catania vinto sicuramente tofani ora come ora dovrebbe essere soddisfatto di quello che stiamo facendo certo e continuo su questa linea l'avvio di campionato per una squadra che profondamente rinnovata uso le parole del presidente damiani si è aperto un nuovo ciclo per l'ansio waterpolis e un avvio a mio avviso lusinghiero sette punti nelle prime quattro uscite sesto posto provvisorio in classifica era questo l'inizio di torneo che potevate immaginarvi siete soddisfatti per come sta procedendo la squadra oppure magari c'è qualche rimpianto per l'inizio della partita col tele ma la butto lì sì ma anche tra noi abbiamo parlato di questa partita che probabilmente se fosse arrivata adesso sarebbe stata completamente differente noi siamo partiti con il tele ma dopo una coppa italia molto difficile appunto molto una squadra rifondata e le prime partite sono sempre complicate di conseguenza in coppa italia abbiamo qualche assenza siamo arrivati alla prima partita probabilmente anche troppo nervosi forse senza certezze che comunque ora abbiamo e io credo che se giocassimo sabato prossimo qua in casa con il tele ma non partiremo 5 a 0 però ovviamente con i secondi ma non si scrive la storia esatto esatto di conseguenza cercheremo di fare un buon risultato con trieste è un gruppo nuovo un gruppo che sta crescendo che sta conquistando i suoi risultati che vuole vendere cara la pelle contro tutti anche contro le formazioni di alta classifica però sicuramente ci sono ancora dei notevoli margini di crescita se fai un'analisi di queste prime uscite quali sono gli aspetti del gioco su cui potete maggiormente migliorare ma come dicevi tu appunto è un gruppo nuovo e avendo appunto quattro stranieri nuovi non è mai facile ognuno viene da un campionato diverso da squadre diverse che comunque avevano un allenatore diverso e io penso che soprattutto in attacco magari nell'uomo in più una sicurezza numerica che è importante nella palla nuova odierna giocare di più o passarci più la palla ancora dobbiamo conoscerci in difesa penso che stiamo veramente giocando bene soprattutto in due tre partite Simone Santini sta parlando veramente bene e questo ci sta aiutando in attacco penso che ci sono ancora tantissime margini di miglioramento certo lo hai accennato anche tu prima adesso c'è un avversario decisamente impegnativa sabato arriva ad anzio la pallanuto trieste formazione che nello scorso campionato è stata ad un passo dalla finale scudetto ha rischiato seriamente di estromettere la n breccia formazione che si è alla prima esperienza in europa qualificata per gli ottavi di euro cap c'è però per voi forse un piccolo vantaggio ai giuliani mancherà per la seconda giornata disqualifica dopo la brutalità rimediata contro la distretti ecologici noto roma il giapponese nap che tipo di partita ci possiamo immaginare guarda io penso che tralasciando in abba è comunque un giocatore veramente un attaccante eccezionale noi saremmo comunque scesi in acqua pensando di poter vincere ora appunto venire da due vittorie consecutive giocare in casa sicuramente sappiamo che loro sono una squadra per ora probabilmente una squadra migliore di noi hanno più esperienza si conoscono da tanto tempo però noi in casa vogliamo cercare di dare fastidio a tutte io io credo che eccetto recco e brescia che oggettivamente fanno un campionato a parte io penso che soprattutto in casa possiamo giocarcela con tutte trieste penso sia una di queste a maggior ragione senza uno dei loro migliori attaccanti certo e quali sono a tuo avviso gli errori che l'ansio deve evitare per provare a portare a casa un risultato positivo che usa un gergo calcistico sarebbe tanta roba soprattutto dal punto di vista del morale e dell'acquisizione della giusta consapevolezza nei vostri mesi sì assolutamente una vittoria sarebbe sarebbe tantissimo io credo che per non per evitare per evitare un inizio difficile dobbiamo partire concentrati e in casa quando magari la partita va al secondo al terzo quarto e sei pari al quarto quarto non si sa mai chi vincerà mentre se sei in trasferta è completamente diverso di conseguenza penso che per noi in casa partire bene sia troppo importante ovviamente evitare magari di lasciare i loro migliori tiratori i loro centri che sono ottimi centri io penso che facendo una partita veramente fatta bene possiamo comunque portare a casa i tre punti va bene e con questo auspicio chiudiamo la nostra chiacchierata ringrazio sebastian susac per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao sebastian grazie mille ciao 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 ciao